Benvenuti, benvenuti a questo incontro in cui parleremo di nuove modalità di diffusione delle informazioni statistiche da parte dell'Istat. Io sono Mara Camarrota, responsabile del servizio gestione e diffusione del patrimonio informativo nell'ambito della direzione di diffusione e comunicazione dell'Istat. Nell'ambito del servizio che io coordino ci occupiamo anche della diffusione di informazioni statistiche in forma di macro dati, quindi dati aggregati che possono essere diffusi sia nel nostro corporate data warehouse sia attraverso tavoli di dati. Ancora diffondiamo informazioni statistiche anche attraverso prodotti editoriali integrati e pubblicazioni scientifiche. Oggi parleremo proprio di alcuni risultati realizzati nell'ambito del servizio che coordino, progetti innovativi tesi a individuare nuove modalità di diffusione. Queste innovazioni si inseriscono in un quadro più ampio di riorientamento della piattaforma di diffusione dell'Istat. Riorientamento richiesto non solo dalle innovazioni tecnologiche a cui assistiamo, ma anche all'evoluzione della domanda da parte degli utenti che cerchiamo di soddisfare ogni volta. Parleremo di progetti che possono aver già dato luogo ad alcune prime release sul nostro sito istituzionale, anche progetti in corso di conclusione. Ascolterete quindi i punti salienti di progetti a cui abbiamo lavorato, ma a cui continuiamo a lavorare, tesi a migliorare la restituzione delle informazioni ai nostri utenti, garantire sistemi di riperimento delle informazioni più accessibili e flessibili. Qui con noi abbiamo tre ricercatori, tre ricercatori che lavorano nel servizio che io coordino e che condivideranno con noi tutti i risultati dei loro progetti. Parleremo di modalità di diffusione sotto diversi aspetti. Nella prima relazione presenteremo i risultati della nuova piattaforma di diffusione dei dati aggregati, caratterizzata da innovazioni tecnologiche, ma anche innovazioni nella ricerca dei dati e nella navigazione. La rappresentazione attraverso dashboard e grafici interattivi sarà oggetto del secondo intervento. Si tratta di sistemi di visualizzazioni avanzate che consentono un'immediata lettura dei fenomeni per i nostri utenti. L'ultimo intervento è dedicato ad una nuova forma editoriale, una forma interattiva che nasce per il web e che consente di fornire al nostro lettore non solo testi, tabelle, ma anche grafici, media, immagini, con una piattaforma molto interattiva. Iniziamo quindi con i nostri relatori. Iniziamo con Carlo Boselli. Carlo Boselli è responsabile del corporate data warehouse in Istat e ci parlerà della nuova piattaforma di diffusione dei dati aggregati in Istat. A te Carlo. Grazie Mara. Come dicevi in questa presentazione andremo ad analizzare le caratteristiche del nuovo sistema di diffusione e anche un po' quelle che sono le strategie di migrazione dei diversi sistemi di diffusione presenti in Istat all'interno della nuova piattaforma. Come sappiamo all'interno dell'Istat sono presenti diversi piattaforme di diffusione, conosciamo tutti in sostanza il punto stat che è il corporate data warehouse che è stato alimentato nel corso degli ultimi dieci anni dai dati aggregati e prodotti sia dai settori di produzione delle statistiche sociali che economiche. Questa piattaforma è basata sulla tecnologia .stat che è una tecnologia proprietaria dell'Ocse che accomuna anche i sistemi dematici che trattano argomenti specifici, i censimenti permanenti e stat base che è una sintesi delle informazioni di .stat presente sul sito istituzionale. Oltre a queste banche dati abbiamo naturalmente coi web che è la banca dati del commercio estero e tutta una serie di sistemi di diffusione, diffusi, aperti all'interno dei vari canali. Ora l'obiettivo è proprio quello di andare in sostanza verso un'unica piattaforma sia per consentire alla latenza di avere un unico approccio, un unico ambiente in cui prendere i punti di riferimento per l'estrazione e la visualizzazione dei dati e soprattutto una nuova piattaforma che consenta di avere e soddisfare le esigenze sia dell'utenza generalista che dell'utenza più avanzata in termini anche di diciamo di estrazione dei dati sia dalla semplice consultazione fino all'analisi più approfondita e questo lo possiamo mantenere attraverso un sistema di navigazione avanzato con diversi elementi elementi innovativi anche attraverso un sistema, una tecnologia, una piattaforma tecnologica molto più potente. Adesso diciamo subito che in realtà la piattaforma di diffusione, la nuova piattaforma di diffusione è già un'utilizzo da parte dell'Istat e diffonde i dati del censimento permanente della popolazione a partire dal 2020. L'elemento più importante da capire è che è divisa in realtà in due moduli, quello che noi tutti vediamo diciamo navigando sul web è il data browser con le query grafici interattivi e quant'altro ma esiste anche una piattaforma interna gestionale attrettanto importante che consente di gestire i dati e i metatati e che consistono quindi nel back end di tutta l'architettura tecnologica. Adesso andremo quindi ad analizzare per entrambi i moduli quelle che sono le caratteristiche innovative. In relazione al data browser che è una piattaforma in continuo aggiornamento, già a partire da dicembre verranno rilasciate nuove funzionalità e sostanzialmente abbiamo una navigazione tradizionale che però è molto più potente rispetto a quella di PuntoStat perché ha un sistema di cache che consente di visualizzare i dati più velocemente e tra le nuove funzionalità abbiamo anche la possibilità per l'utenza di presalvare alcune tabelle e passare in velocità da un argomento all'altro in base alle selezioni effettuate come se fossimo su dei fogli excel separati. Abbiamo poi le dashboard che già conosciamo sono sostanzialmente delle strutture interattive formate da tabelle, grafici ma anche elementi testuali in cui l'utente può modificare le modalità di selezione eccetera quindi all'interno del quale può navigare e sostanzialmente viene implementata e potenziata la navigazione territoriale in questo caso abbiamo la possibilità di visualizzare tematiche diverse per uno stesso comune o uno stesso territorio o anche confrontare i dati di comuni diversi. Infine abbiamo naturalmente un nuovo set molto potente sia di grafici che di mappe. Le novità della nuova piattaforma riguardano anche proprio il sistema di ricerca delle informazioni. Abbiamo un sistema di ricerca molto fruibile che è quello da navigazione orizzontale tramite bottoni in cui vengono categorizzate le informazioni. Abbiamo il precedente sistema di navigazione di punto stat riproposto anche in questo ambiente cioè l'albero tematico verticale e poi abbiamo un sistema di ricerca piuttosto potente perché accompagna sia la possibilità naturalmente di inserire un test di restituire tutti i possibili data flow ovvero query tabelle che corrispondano a determinato argomento ma anche di filtrarli ulteriormente attraverso l'albero tematico. Quindi l'utente è molto facilitato nell'individuazione delle informazioni che sta cercando. Se queste sono le principali innovazioni dal punto di vista della piattaforma di navigazione altrettanto importanti sono quelle che riguardano la piattaforma di back-end cioè quella interna gestionale. Noi veniamo da una tecnologia proprietaria dell'Ocse e stiamo andando invece verso un sistema, un'architettura standard di trasferimento dati riconosciuta a livello internazionale come ISO e promossa da una serie di organizzazioni come le Nazioni Unite o la Banca Mondiale. Ricordiamo ad esempio che anche nella trasmissione dei dati a Eurostat la quasi totalità dei paesi fornisce i dati a Eurostat in base a questo standard. Questo standard cosa consente? Una modularità nel senso che le nostre componenti possono interagire con quelle delle altre organizzazioni che possono visualizzare i nostri dati pubblici aggregati nei loro sistemi. È orientata verso il machine to machine, cioè uno snodo web service a cui le altre organizzazioni possono agganciarsi. Quindi è un sistema che interagisce anche con il mondo esterno e la cosa più importante è che se l'architettura è diciamo un'architettura standard, la tecnologia che ha sviluppato l'Estat per sfruttare questa architettura è una tecnologia open source, cioè l'Estat la mette a disposizione di tutti, sia il metadata manager che il data browser e gli sviluppatori possono riutilizzarli, gli enti possono riutilizzarli e implementare anche nuove funzionalità oppure semplicemente utilizzarle per gestire i dati come avviene all'interno degli Estat. Quindi parliamo di un paradigma completamente rivoluzionale. Ora il nostro obiettivo è sicuramente quello di migrare appunto i dati all'interno della mia piattaforma, abbiamo già in una fase di sperimentazione migrato un quarto di tutti i dati di punto stat corrispondenti ai dati della contabilità nazionale, sia in termini di strutture dati, di dati che proprio di sistema di navigazione, stiamo contemporaneamente migrando i dati del commercio estero, sia in termini di nomenclatura combinata che in termini di nomenclatura sui trasporti e tutte le automazioni, il problem solving che abbiamo sviluppato durante questa fase di sperimentazione ci fanno essere ottimisti nella possibilità di migrare la totalità dei contenuti all'interno del prossimo anno, quindi nel corso del 2022. Quindi si conclude. Grazie, grazie Carlo. Grazie mille, grazie perché ci ha dato qualche spunto sulle potenzialità e sul meccanismo che troviamo come back-end di questa piattaforma. Passiamo ora a Michele Ferrara, Michele è responsabile di visualizzazione dei dati e ci parlerà di dashboard e grafici interattivi. Michele, passo la parola. Grazie Mara, mi riaggancio a quanto detto da Carlo sulle novità della nuova piattaforma di diffusione per introdurre la mia presentazione perché nelle novità della nuova piattaforma ho visto le dashboard della grafica interattiva che sono la base della mia attività e sono contento perché comunque confermano l'importanza di questa tecnologia che ormai è consolidata sia in ambito di comunicazione e diffusione dell'informazione in generale ma è ancor più della diffusione dell'informazione statistica. Qui in Istat ormai sono più di dieci anni che questa attività va avanti. Io mi occupo fondamentalmente di due linee di produzione, le dashboard a supporto dell'analisi dei dati statistici e la grafica interattiva integrata di cui fa parte anche una nuova serie di grafici che è dedicata ai dati a cadenza trimestrale e mensile. Ma andiamo per ordine e parliamo delle dashboard e vediamo cosa sono. In realtà in generale si presentano come un pannello di più grafici, composto da più grafici che fornisce un'informazione dettagliata e articolata di un determinato fenomeno, ad esempio possiamo pensare al Covid-19 che nell'anno della pandemia ne ha visti sorgere svariati come tuttora sono pubblicati su internet oppure può essere visto come un quadro d'insieme di diversi aspetti ambientali, economici e sociali di alcune aree territoriali, zone, regioni o nazioni. L'Istat produce delle dashboard un po' più complesse rispetto a una semplice collezione di grafici interattivi. Sono dei sistemi di visualizzazione di dati avanzati che consentono comunque la navigazione all'interno di un insieme di dati più complesso, più articolato e più dettagliato. Presentano dei grafici che sono collegati, tra loro come vedete nella slide ho fatto un focus su questa parte perché è importante capire la differenza tra quello che appunto è un semplice pannello di grafici e una dashboard avanzata di questo tipo. l'utente cliccando ad esempio sulla mappa come vedete nella slide va a selezionare, a filtrare i dati sul grafico adiacente in questo caso. Quindi cosa significa? Il grafico oltre a essere una rappresentazione dei dati diventa anche il proprio strumento di navigazione. in più l'utente stesso può utilizzare le tendine a filtro per navigare nell'insieme complesso dei dati attraverso le varie dimensioni che sono i temi, i sottotemi, le variabili di stratificazione come titolo di studio, classe d'età, genere e visualizzare varie tipologie di grafici, dalle mappe ai bar chart o anche alle forme tabellari per arrivare alle forme tabellari. E nei Vistat quindi la produzione delle dashboard ha visto il supporto alle pubblicazioni generali prima di tutto, quali l'annuario statistico italiano, l'Italia, il rapporto annuale, poi si è allargata la produzione anche ai rapporti tematici, quello sul BES, indicatori del benessere questione sostenibile, il rapporto SDGs sugli indicatori per lo sviluppo sostenibile e in particolare in alcuni casi vengono prodotti anche delle dashboard ad hoc per determinati fenomeni come è stato per esempio per il progetto Istat per il Paese attivato nella fase della pandemia per la pubblicazione dell'andamento dei decessi negli anni 2015-2020. Lo sottolineo perché questo dashboard ha avuto parecchie visualizzazioni, chiaramente essendo un argomento di interesse per quel periodo, ma la cosa importante è che siamo riusciti a impacchettare e pubblicare un insieme di dati veramente grande perché erano dati giornalieri dei decessi per comune e stratificati per le varie classi di età, sesso e per tutti gli anni dal 2015 al 2020. Quindi erano milioni di records che poi siamo riusciti comunque a visualizzare in un unico prodotto. Quindi diciamo che la diffusione Istat si avvale di questi strumenti un po' più avanzati per sostenere comunque la produzione dell'istituto che comunque in termini sia di qualità che di quantità è enorme. Ovviamente questo tipologia di prodotto soddisfa un'utenza più esperta, forse più di studiosi, di ricercatori, forse più di più curiosi e forse un po' meno gli utenti che sono meno esperti nella navigazione sul web o comunque più abituati a forse anche a leggere il testo, il commento all'informazione statistica, ai dati. E qui entra nel gioco l'altra linea di produzione dell'attività che sono la grafica interattiva integrata. Perché? Perché questi grafici sono dei grafici singoli di facile lettura che sono inseriti all'interno dei testi che troviamo sul sito istituzionale oppure nelle pubblicazioni web, sempre pubblicate sul sito e che vanno in qualche modo ad arricchire il commento ai dati, ad alleggerire anche la lettura dell'utente dell'informazione che stiamo rilasciando e costituiscono comunque un fattore innovativo perché da pochi anni a questa parte diciamo parecchie pubblicazioni sono state arricchite da questa nuova tecnologia come Noitalia, date alla mano, abbiamo il sito sulla violenza sulle donne. Questi grafici sono stati realizzati attraverso delle applicazioni web che consentono di semplici passaggi di costruire questi grafici e rilasciando un codice, un codice HTML che con un copia e incolla, lo dico per rendere a chi ci ascolta quanto è facile poi alla fine prendere questi grafici e inserirli nelle pagine perché appunto con un semplice copia e incolla del codice il grafico può essere inserito e integrato nelle nostre pubblicazioni e nel nostro sito. Inoltre sono di tipo responsive ovvero che si adattano bene anche alla lettura da dispositivi mobili come smartphone e tablet. Da questa linea di produzione c'è stata un'evoluzione che è stata portata avanti con una ricerca e una sperimentazione fatta tutta dentro l'ISTAT che ha visto la nascita di una procedura software sviluppata in linguaggio R che ha effettuato i dati e l'estrazione dei dati attraverso, sfruttando il web service SDMX e collegandosi al data warehouse SDMX e consentendo la generazione e l'aggiornamento automatico di un'altra tipologia di grafici interattivi che è questa che vedete nella slide e che sono dedicati alla pubblicazione dei dati a cadenza trimestrale e mensile. Questa rappresenta un'ulteriore innovazione perché sicuramente come processo di produzione lo rende più efficiente visto che l'aggiornamento è automatizzato e per questa cadenza così frequente è sicuramente un di più. E poi alimenta il repository, l'archivio di tutti questi grafici che abbiamo a disposizione e che possono essere sempre riutilizzati nelle altre pagine e anche in altre pubblicazioni. Allora, qui vedete uno schema che, diciamo, raffigura il flowchart della procedura che dal data warehouse passa per il web service SDMX e attraverso poi una procedura R viene generato un output che direttamente viene pubblicata sul nostro sito. Una pagina nuova di grafici interattivi che per l'occasione proprio della conferenza nazionale di statistica verrà pubblicata proprio in questa occasione. Ecco, e con questo penso ho terminato. Grazie, grazie Michele, conciso ma dettagliato. Concludiamo le nostre relazioni programmate con Sonia Vittozzi. Sonia è responsabile della progettazione editoriale in Istat. A te, Sonia, il compito di descriverci questa nuova forma editoriale, il web publishing. Grazie. Grazie a te, Mara, e salve a tutti. Vi parlo dunque di un progetto che è in corso di sviluppo attualmente all'Istat, che intende arricchire l'offerta di pubblicazioni prodotte dall'Istituto con un nuovo format editoriale di web publishing. Quindi parliamo ancora una volta di web e parliamo però di attività editoriale, di publishing. L'Istat infatti è un soggetto che ha un'attività diciamo intensa dal punto di vista editoriale, lo ha nella doppia veste di ente di ricerca e quindi diciamo dovendo dare voce all'attività scientifica dei propri ricercatori, ma anche in quanto produttore di statistica ufficiale. Questo perché come produttore di statistiche ufficiali, oltre a produrre, l'Istituto è chiamato a pubblicare le statistiche che produce, a dare loro diffusione. E quindi ecco che abbiamo una, diciamo un'attività editoriale organizzata in diversi format che sono riassunti in questa slide e vediamo che sostanzialmente il minimo comune denominatore è che il grosso della produzione da tempo è fatta di libri digitali in pdf. Abbiamo adottato questo formato come il più snello per la nostra produzione e quindi abbiamo delle serie monografiche che vedete sulla sinistra di letture statistiche. Abbiamo poi poche pubblicazioni diciamo di rilievo istituzionale che vengono anche realizzate a stampa, tipicamente l'annuario statistico italiano e il rapporto annuale e oltre che ovviamente anche esse sono reperibili in pdf sul sito web. Infine segnalo che una terza pubblicazione generalista, Noi Italia, già citata da Michele, ha avuto negli anni un'evoluzione per cui dal 2008 quando è nata come pubblicazione cartacea, quindi pubblicazione di tipo tradizionale, evoluta negli anni fino a diventare un applicativo web navigabile dall'utente e quindi diciamo lo segnalo come un primo prodotto di web publishing lanciato dall'istat con successo. ora cosa vogliamo fare in più con questo progetto di un nuovo format? Vogliamo diciamo lanciare il web publishing proprio come un filone della produzione editoriale dell'istat. Quello a cui pensiamo è un formato editoriale quindi che si basa sull'internet media come canale per la pubblicazione di contenuti originali e in questo si differenzia quindi dalla generalità della produzione che noi abbiamo in corso e che nasce diciamo per una una fruizione preferenzialmente offline anche se è reperibile online, scaricabile online. e quindi diciamo dal punto di vista del formato quindi abbiamo un formato nativamente web, i contenuti sono messi direttamente sul web. Con questo cosa pensiamo di ottenere? Pensiamo di raggiungere un nuovo modo di raccontare i dati, cioè far coesistere, integrare tipi di contenuti di contenuti diversi e una possibilità che ci dà il web e quindi dandoci la possibilità di raccontare le nostre statistiche utilizzando un unico ambiente navigabile dall'utente attraverso delle interfacce web nelle quali parte del racconto sono testi ma sono anche grafici statici ma anche grafici interattivi come quelli di cui di nuovo ci ha parlato Michele che diciamo con il quale collaboriamo strettamente e quindi diciamo puntiamo a far crescere le nostre le nostre pubblicazioni come narrazioni statistiche volute in senso multimediale. In secondo luogo il web publishing dovrebbe darci una marcia in più per arrivare agli utenti utilizzando la possibilità che tutti conosciamo del web di condividere da un lato e di incorporare dall'altro i contenuti altrove diciamo sui social e su altri siti e questo diciamo ci aspettiamo come effetto appunto una circolazione che vada al di là diciamo dei target consueti e che faccia incontrare le nostre statistiche e la loro capacità conoscitiva farla incontrare anche a pubblici non ovvi e che non sono abituati a perlustrare il nostro sito ma che possono incontrare le nostre statistiche grazie alla condivisione e all'incorporamento altrove. Infine segnalo che del progetto fa parte anche la costruzione diciamo di una piattaforma che ha un ambiente di back-end che ci aiuta anche dal punto di vista produttivo internamente. Questo ovviamente non interessa il lettore però lo segnalo come una cosa per noi molto importante perché intende formalizzare in modo decentrato il processo di produzione editoriale e far sì che grazie a questo ambiente di back-end i vari soggetti che producono la pubblicazione dagli autori ai revisori a chi deve autorizzarne la pubblicazione possono interagire utilizzando le funzionalità messe a disposizione dalla piattaforma quindi realizzando anche un processo più semplificato e più veloce. Nell'affrontare questo progetto abbiamo ovviamente ci siamo ovviamente guardati intorno e abbiamo guardato anche agli sviluppi degli ultimi anni nel campo della comunicazione web e anche alle ricadute che questi sviluppi hanno avuto in alcune esperienze nel campo della statistica pubblica europea e quindi vi segnalo da un lato che abbiamo guardato innanzitutto con interesse alla pratica in valsa di produrre articoli lunghi sul web quella che viene definita la pratica del long form dell'articolo long form che è nata nel mondo giornalistico anglosassone che poi è in valsa come format editoriale consolidato che ha un po' voluto contraddire la precedente idea per cui sul web vanno solo i testi brevi se diciamo il web possa supportare solo i testi brevi invece c'è tutto un filone che oggi diciamo ama pubblicare articoli lunghi immaginando diciamo una possibilità diciamo di raggiungere lettori più diciamo meno distratti ecco e accanto a questo abbiamo guardato le specializzazioni del giornalismo dei dati che è un po' anche collegato al precedente e che appunto in campo giornalistico ha generato apposite sezioni di siti di informazione tutte basate sul racconto dei dati anche avanzato in senso multimediale. Tutto questo dicevo le ripercussioni nel campo della statistica pubblica negli scorsi anni abbiamo guardato anche con interesse a quello che ha fatto per esempio l'Office for National Statistics nel Regno Unito che ha diciamo sperimentato per un certo periodo anche la costruzione di visual stories utilizzando un sito dedicato che poi diciamo è stato fatto confluire nel sito istituzionale dell'ONS e infine ci siamo direttamente fatti ispirare dal sito dell'Istituto di Statistica Olandese che ha introdotto nel proprio sito istituzionale un filone di articoli che chiama Long Reads che sono appunto degli esempi di contenuti Long Form fatti di testo navigabile con grafici eccetera. Sonia scusami hai soltanto due minuti ancora. Sì vado. Solo un'anticipazione su questo progetto perché il progetto è in corso vedete qui diciamo la sua caratteristica che ovviamente condivide col sito istituzionale che è quella della responsività cioè dell'adattabilità della grafica della pubblicazione a diversi dispositivi di dimensioni diverse e di risoluzioni diverse. Abbiamo uno schema di home page che come vedete ha degli elementi di riconoscibilità del format in generale quindi un interfaccio, un layout grafico comune a tutte le pubblicazioni che saranno pubblicate come web publishing e degli elementi di identità della singola pubblicazione quindi il titolo, un'immagine associata al titolo, un abstract e anche la possibilità di dare dell'evidenza in pillole come vedete e poi dei link che consentono la condivisione di scaricare i dati e la versione pdf. Infine un'occhiata al corpo della pubblicazione che è il documento principale che apparirà, questo è l'immagine di una pubblicazione che vi faccio notare principalmente che oltre diciamo ovviamente allo scrolling che può fare l'utente scendendo da solo lungo il testo eccetera ha la possibilità di navigarlo anche utilizzando l'indice ipertestuale che appare sulla sinistra dello schermo. In alto abbiamo anche un menu top che consente di andare direttamente alle varie sezioni della pubblicazione e il piedi pagina che ovviamente contiene i riferimenti istituzionali, il logo dell'Istat e il rinvio ai social. La pubblicazione è come dicevo composita e può contenere non solo testo e grafici come vediamo in questo esempio ma può incorporare oggetti di varia natura realizzando quello a cui puntiamo che è un prodotto realmente multimediale, diciamo un racconto multimediale. Io mi fermo qui, vi lascio il mio indirizzo, grazie a tutti. Grazie Sonia, forse ci vuole più tempo per raccontare questo modo di raccontare i dati che presenteremo ai nostri utenti. Ringrazio ancora i relatori però prima di chiudere vorrei approfittare della vostra disponibilità per approfondire alcuni aspetti. Alcune brevi domande con brevi risposte. Carlo ho un quesito relativo al processo di migrazione che ci hai descritto. Questo processo di migrazione dalla vecchia piattaforma alla nuova avrà un impatto sugli utenti e sui processi? Mi spiego meglio. Impatto sugli utenti nel senso chiariamo agli utenti se ritroveranno tutta l'offerta formativa attuale e per i processi c'è un impatto sull'alimentazione della piattaforma sottostante da parte delle nostre direzioni, colleghi delle nostre direzioni di produzione? Grazie Mara. Naturalmente l'attività di migrazione è un'attività complessa però tre elementi, tre indicazioni possiamo sicuramente darle. Da un lato la sperimentazione ha evidenziato la possibilità di migrare tutte le informazioni nel rispetto di quella che è sia l'articolazione in termini di tematiche e di query, di tabelle e di codifiche. Quindi gli utenti ritroveranno tutte le informazioni disponibili nei precedenti sistemi e casomai saranno aggiunte nuove funzionalità senza togliere assolutamente nulla. Dal punto di vista dei processi i settori di produzione non dovranno modificare alcunché nei propri processi di alimentazione dei dati perché il sistema di mapping si aggancia estremamente integrato ai dati già presenti in istituto e questo era importantissimo per la sostenibilità di tutto il progetto e di queste innovazioni. Il terzo elemento anche naturalmente essendo l'ambiente orientato al machine to machine e quindi al web service stiamo riproponendo tutti gli attuali data flow e le attuali esposizioni anche nel nuovo ambiente e nelle stesse modalità dando anche indicazioni poi all'utenza via via che miglioreremo di quelli che sono i punti di raccordo. Quindi assolutamente un messaggio diciamo di trasparenza e di tranquillizzare appunto l'utenza che ritroverà tutto quello che c'è attualmente a disposizione sui precedenti sistemi. Ok, grazie Carlo. Quindi abbiamo rassicurato gli utenti ma anche i nostri colleghi dei servizi di produzione. Michele, invece tu ci hai parlato delle dashboard che noi utilizziamo in alcuni nostri prodotti, abbiamo il rapporto annuale, il BES, modalità di grafici interattivi diversi, alcune in fase di implementazione. immagino che questa materia diciamo sia fonte di innumerevoli sviluppi. L'Istat sta sperimentando altre cose, che cosa ci aspettiamo per il futuro in questo filone? Grazie della domanda, Mara. Diciamo che sicuramente l'ultima cosa che vi ho fatto vedere, cioè l'attività di ricerca e sperimentazione che ha portato a quella procedura fatta in R per l'aggiornamento automatico dei grafici, ci proietta nel futuro prossimo, nel 2022, ad inseguire sicuramente nuove forme di layout grafico, nel senso che per quello che abbiamo pubblicato per la conferenza nazionale sono solo serie storiche, quindi grafici a linea, ma vorremmo ampliare la varietà della tipologia di grafica da proporre e da offrire all'utenza e soprattutto mantenendo però l'aggiornamento automatizzato. Anche perché uno degli obiettivi è anche quello di creare un repository, un serbatoio di grafici riutilizzabili nelle diverse pubblicazioni o nelle diverse zone del sito istituzionale, quindi alimentare questo repository di grafici riutilizzabili sempre aggiornati. E poi per quanto riguarda le dashboard avanzate, quelle più complesse, magari farne qualcuna in più per fenomeni ad hoc, perché per adesso abbiamo sicuramente coperto le pubblicazioni generali, i rapporti tematici, come vi ho detto, però vista l'esperienza che è stata fatta per il progetto Istat per il Paese, che è andata molto bene, e magari ci sarà qualche altro progetto ad hoc proprio per quest'altro tipologia di visualizzazione dei dati. Grazie Michele, quindi i nostri ascoltatori si dovranno aspettare altre novità, altre novità da parte nostra. Sonia, abbiamo detto che il progetto è in fase di conclusione, possiamo dare un'idea della tempistica con cui daremo, diciamo, diffonderemo il primo volume di web publishing dell'Istat, e poi in generale che tipo di contenuti potrà accogliere questo nuovo format? Sì Mara, ecco, riguardo all'esordio del nuovo format, quindi alla prima pubblicazione, posso dire che la piattaforma di gestione software è attualmente in fase di test, quindi noi contiamo di partire con una prima uscita nella prima parte dell'anno prossimo, diciamo, nella prima parte del 2022. Riguardo ai contenuti, diciamo, non mettiamo tanti vincoli sulla scelta dei temi, ci guida soprattutto la possibilità, la potenzialità di essere interessanti per l'utente, e quindi valgono temi sociali, economici, approfonditi, diciamo, attraverso i dati, quindi dando un contributo statistico per la comprensione dei fenomeni. Ma anche possiamo pensare a divulgazione su aspetti metodologici della statistica che possono interessare o incuriosire chi ci legge, possono illuminare magari anche dietro le quinte della statistica. Pensiamo di accogliere da subito nel format dei lavori, diciamo, di respiro non librario, quindi sintesi statistiche agili senza apparati metainformativi complessi. Pensiamo in prospettiva però anche a far evolvere questi contenuti, come dicevo prima, anche in progetti veri e propri di racconto statistico avanzato e visuale, utilizzando tutte le potenzialità del format. Grazie, grazie Sonia per la chiarezza. Bene, siamo arrivati al termine del nostro incontro, ringrazio nuovamente i nostri relatori, ma ringrazio soprattutto tutti voi che ci avete ascoltato finora e segnalo che siamo ovviamente disponibili a qualsiasi richiesta di chiarimento che potete inviare all'email che avete visto nell'ultima slide dei nostri relatori. Non ci aspettiamo solo richieste di chiarimento, ma anche un riscontro che aspettiamo positivo su queste innovazioni. Vi saluto, arrivederci alla presentazione di nuove e ulteriori soluzioni che noi cerchiamo di trovare per migliorare la diffusione dell'informazione statistica dell'ISTAT. Grazie.